Sono 25 anni di matrimonio, ma ci amiamo come se fosse il primo giorno. È da un anno che io mi vedo con un'altra persona. Chi è questa persona? Silvana! Tua madre ha una relazione con la mia commessa, è una cosa normale! Sono mesi che stiamo senza commesse. Sono venuta parla, non so. Vuoi essere un mastico? Eh, lo vedo. Hamburger, all inclusive. Che dice? S'assunta. Sei riuscita a vendere la madre Teresa, erano dieci anni che ci riuscivo. Ma perché era madre Teresa? Sì, mia moglie mi ha lasciato con una donna. Ah, vabbè, lesbica! Sarò senza speranza. Ah, però dove non c'è speranza ci sa? Love it! Ma guardi che bel profilo che gli ho fatto, eh! Gli ho calato l'età dei dieci anni, molleve tra le donne, domani così le donne. Benvenuto! Che c'è Gianfranco? Chi? Ho sbagliato civico, scusa. Dimmi che c'hai il preservativo. 2001. Raffaella, questa è una rosacea. Quattro mesi di cortisone mi ha fatto fare, eh! Un taxi! Questa è una matta. No, 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 no. Ti voglio chiedere scusa. Tutto questo andi rivieni, questo casino che ho combinato, eh! Non è facile neanche per me, sai? Tu moglie sa, deve dimenticare 26 chiamate in uscita! Solo ieri sera! E non trovavo il libretto di istruzioni dell'asciugapanni. Ai freddenotte! Dai! Gli ha cambiato da così a così, sei fida! Io voglio vivere! Mi sono stufato! Devo recuperare quello che ho perso, Luna! La posso invitare a bere una cosa? Ma che ci sto provando? Come diceva, mi ha scambiato sicuramente per un drogato e indevravato. Ah, vabbè, come tutti l'ex mia, vabbè, quello si recupera, dai! Ma che è? Paracetamolo? Sì! Ma dove l'hai messo? Nel posto più bello del mondo. Mi dammi il telefono. Non posso. Vibra! Eh, hai messa te la vibrazione, ma che vuoi da me?